o benvenuti a questo nuovo incontro di spazio per tutti io sono marco del gruppo astrofili savonesi siamo qua con gli amici del gruppo astrofili polaris di genova e vabbè un saluto speciale sempre ragazzi del liceo cassini che ci seguono in queste nostre dirette questa sera abbiamo con noi anche gli amici dell'osservatorio di genova e vi ricordo subito il prossimo appuntamento che sarà per venerdì 9 aprile avremo con noi di nuovo ritorna davide cenadelli bravissimo che ci racconterà le meraviglie del cielo primaverile quindi andremo a scoprire qualche chicca del cielo che si sta vicendando in questi giorni e vabbè un grazie a paola per essere qui con noi a sandro che fa sempre cabina di regia ea lettizia da trento che gestisce la stanza di zoom roberta e andrea che ci mandano in diretta sui nostri canali youtube e facebook io non perdo altro tempo lascio la parola sandro che vi presenterà la nostra relatrice a dopo grazie marco per aver introdotto la serata di questa sera ospite di questa puntata di spazio per tutti e la collega paola cianfarra l'attività di ricerca di paola coinvolge campi multidisciplinari per lo studio di problemi legati all'evoluzione della terra solida della superficie terrestre dell'atmosfera dell'idrosfera e per l'esplorazione e investigazione delle risorse energetiche e per il loro sviluppo sostenibile inoltre i suoi interessi comprendono le tematiche riguardanti la modellazione dell'evoluzione tettonica crostale in aria chiave del nostro pianeta e il loro confronto con altri corpi rocciosi del sistema solare in quest'ambito è stata correlatrice di tesi di dottorato in planetologia ed è proprio per quest'ultimo interesse di paola che paola è qui questa sera per raccontarci qualcosa è emerso dalle sue ricerche quindi lascio immediatamente la linea paola e ringrazio a nome mio del gruppo strofili savonesi e dell'associazione ligure polaris per aver accettato il nostro invito grazie sandro grazie della della presentazione e grazie al gruppo strofili savonese e dell'invito e ringrazio anche tutti i partecipanti a questa interessante serata speriamo sia interessante per tutti allora andiamo cominciamo subito questa chiacchierata sulla geologia marziana vedendo un po poi quali saranno cosa possiamo dire circa le sfide future e il talk la questa questa serata questa presentazione articolata in due parti la prima parte esploreremo un po le caratteristiche geologiche di Marte quindi cominceremo dal vedere Marte dove si trova all'interno del sistema solare quali sono le caratteristiche che lo accomunano ad altri pianeti del sistema solare pianeti rocciosi dopodiché vedremo alcune delle caratteristiche principali della superficie marziana brevemente citeremo alcune delle missioni planetarie che hanno portato ad acquisire informazioni dati circa Marte vedremo quali sono le problematiche ancora aperte e forse con un pizzico di ambizione proveremo anche a fornire qualche chiave futura per vedere come possono essere affrontate queste problematiche e infine vedremo nell'ultima parte quale può essere il contributo della geologia all'esplorazione planetaria tra tra i presenti probabilmente pochi saranno geologi e allora essendo di estrazione geologica mi faceva piacere ricordare il fatto che il termine geologia fu coniato nel 1600 all'inizio del 1600 da questo naturalista Ulisse Aldrovandi il quale citò per la prima volta la geologia e separò all'interno dello studio delle scienze naturali la parte che non si occupava di vita in generale e quindi introdusse questa grande suddivisione tra geologia botanica e geologia ma andiamo a Marte dove si trova Marte all'interno del sistema solare? l'abbiamo evidenziato qui con la scritta gialla è questo pallino piccino molto vicino al sole definiamo come distanza media tra la Terra e il Sole una grandezza che si chiama una unità astronomica e che più o meno coincide e equivale a 150 milioni di chilometri quindi se poniamo uguale a 1 la distanza cioè a un'unità astronomica la distanza della Terra dal Sole vediamo che Marte si trova a poco più di questa unità 1,52 e progressivamente quindi vediamo che i pianeti più vicini al Sole sono rispettivamente Mercurio, Venere, la Terra e Marte pianeti che condividono alcune caratteristiche che tra breve esploreremo mentre più distanti abbiamo i pianeti più grandi anche chiamati giganti come Giove, Saturno, Urano, Nettuno che arriva a 30 unità astronomiche all'interno del sistema solare appunto dicevamo prima quei puntini molto vicini alla stella di questo sistema planetario cioè il Sole vengono anche chiamati pianeti rocciosi o pianeti terrestri invece quelli più distanti sono appunto Giove, Saturno, Urano e Nettuno vengono anche chiamati pianeti giganti qual è la caratteristica dei pianeti giganti? cominciamo da quelli più lontani che sono come dice la parola molto più grandi e hanno anche una densità media più bassa loro sono composti prevalentemente da idrogeno, elio ma anche da parte di altri componenti come ammoniaca, acido, sulfidico e soprattutto quelli anche ancora più lontani come Urano e Nettuno sono talmente lontani dal Sole per cui hanno delle temperature superficiali molto basse e compatibili con la presenza di ghiaccio ghiaccio non sempre fatto solo di acqua ma anche di metano ed altri elementi come vi dicevo questi pianeti sono una densità molto bassa vedete si aggira attorno all'unità rispetto al fatto che sono invece delle masse molto elevate cioè sono molto più grandi rispetto alla nostra Terra andiamo a vedere invece le caratteristiche di Marte rispetto a quelli che sono gli altri pianeti rocciosi Marte ha una densità relativamente più bassa rispetto a quella media per esempio della Terra di Venere, di Mercurio c'è da dire che questi pianeti sono fatti sono costituiti per il 90% di ossigeno, ferro, silicio, magnesio, zolfo ovviamente anche l'idrogeno, l'elio, il carbonio, l'azoto sono altri elementi molto presenti e diffusi all'interno del nostro sistema solare ma sono poco rappresentati nella composizione planetaria in quanto sono piuttosto volatili il fatto che la densità dei minerali che costituiscono le rocce che affiorano sulle superfici, sulla nostra superficie terrestre ma anche su Marte a queste densità oscillano tra i 2500-3500 kg su metro cubo un valore medio è circa 3000 e quindi quando confrontiamo questo valore con la densità media dell'intero pianeta c'è qualcosa, qualche conto che non torna e questo ci fa supporre agli studiosi che l'interno di questi pianeti possa essere composto da materiali più pesanti e quindi si ipotizza la presenza di un nucleo e di un nucleo nella fattispecie caratterizzato da metalli come per esempio ferro noi sappiamo che la Terra ha un campo magnetico e sappiamo anche che il campo magnetico terrestre verosimilmente possa essere il risultato di movimenti che avvengono all'interno del nucleo in quella parte del nucleo che non è solido ma si trova allo stato liquido e come possiamo vedere in questa tabella Marte invece non ha un campo magnetico o meglio attualmente non presenta un campo magnetico un'altra caratteristica che lo distingue per esempio dalla Terra è il fatto che non presenta un'attività tettonica cioè non ci sono al momento grosse evidenze di movimenti significativi riconducibili a quei movimenti che caratterizzano il mosaico di placche che si trova al di sopra della superficie terrestre e un'altra caratteristica è che c'è stata un'attività vulcanica in passato su Marte mentre sulla Terra sappiamo esserci un'attività ancora attiva ancora presente tuttavia come vedete questi valori queste diciture le ho messe le ho rappresentate in arancione perché c'è da dire che il dibattito è ancora aperto cioè all'interno della comunità scientifica i ricercatori ancora si confrontano e sono alla ricerca di dati per poter effettivamente confermare o dimostrare viceversa al contrario che qualche tipo di attività sia ancora presente cioè che Marte non sia quel pianeta morto e per nulla attivo o completamente deserto come si credeva fino a poco tempo fa riguardo il campo magnetico terrestre che abbiamo citato poco fa c'è da dire che in realtà da misure effettuate sulla base di dati acquisiti da satelliti che ruotano in orbita attorno al pianeta rosso si è visto che in effetti un campo magnetico c'è stato in passato e in questa figura vediamo queste rappresentazioni queste bande rosse alternate a delle bande blu che sono molto simili a quelle fasce di anomalie magnetiche che si trovano nei fondali oceanici sul pianeta Terra e che sono state messe in relazione all'attività di apertura e formazione di nuova crosta oceanica come per esempio nell'oceano atlantico e questo ha fatto supporre gli studiosi che appunto in passato questo meccanismo fosse questo processo possibilmente riconducibile ad un nucleo che potesse avere delle caratteristiche diverse da quelle attuali e che quindi fosse responsabile di un campo magnetico campo magnetico che ora vi ricordo, ripeto, non essere più presente in questa figura vediamo in alto il confronto tra l'attuale spessore litosferico e astenosferico dei vari pianeti terrestri inclusa la Luna mentre in basso a sinistra vediamo il confronto della dimensione e del raggio dei pianeti terrestri dove viene espressa in percentuale del volume rappresentato dal nucleo del pianeta stesso il messaggio qual è? che mentre Venere e la Terra mostrano delle caratteristiche simili in termini di dimensioni ma anche di densità come abbiamo visto prima e quindi hanno anche delle caratteristiche simili in termini di strutturazione interna di stratificazione interna del pianeta stessa e condividono anche il fatto che hanno un'attività tettonica ancora attiva viceversa gli altri pianeti hanno masse differenti e sembrerebbe quindi che anche la loro attività geologica ed evoluzione geologica sia stata differente sappiamo che Mercurio e la Luna per esempio non hanno un'attività tettonica attuale gli ultimi processi tettonici forse si sono esauriti circa 3 miliardi e mezzo di anni fa mentre come vedete su Marte ho messo un bel punto interrogativo perché come vedremo ci sono una serie si pensa che Marte non abbia processi tettonici attuali ma i dati provenienti dalle nuove missioni ci stanno portando gli studiosi a considerare che forse quest'ipotesi vada rivista torniamo ad un confronto più ravvicinato tra Marte e la Terra quindi al pianeta rosso ha una dimensione circa la metà vedete dal raggio poco meno della metà del raggio terrestre la sua gravità anche circa un poco più di un terzo la densità media è più bassa il giorno marziano cioè vale a dire Marte completa una rotazione completa attorno al proprio asse in circa 24,7 ore quindi il giorno marziano dura più o meno come quello terrestre mentre l'anno ossia il tempo impiegato dal pianeta a compiere un'orbita completa attorno al Sole è maggiore, è più lungo quasi il doppio rispetto a quello terrestre Marte è un pianeta freddo attualmente la temperatura media come vedete è di meno 60-65 gradi sotto lo zero e questo come vedremo ha delle implicazioni come condizioni di pressioni e temperatura infatti l'acqua difficilmente si può trovare allo stato liquido sulla superficie marziana l'altra caratteristica di Marte è che a differenza della Terra ha un'atmosfera ma un'atmosfera molto molto sottile molto rarefatta vediamo che la pressione sulla superficie del pianeta è circa un centesimo rispetto a quella terrestre e poi Marte ha due satelliti due lune in questa immagine vediamo rappresentati i due satelliti di Marte Phobos e Deimos che furono scoperti nel 1877 dall'astronomo americano Hall in realtà hanno delle dimensioni piuttosto ridotte Phobos ha una larghezza massima di circa 27 chilometri per una larghezza di 22 mentre nella terza dimensione raggiunge i 19 chilometri e Deimos è anche più piccolo di Phobos Phobos è caratterizzato dalla presenza di un grosso cratere come lo vediamo qui in questa immagine e cosa possiamo dire gli studiosi ritengono che questi due corpi celesti un tempo fossero degli asteroidi che orbitavano all'interno del sistema solare in una regione compresa tra Marte e Giove per processi che ancora non sono stati ben spiegati sono stati poi catturati dalla gravità di Marte e quindi sono rimasti ad orbitare attorno al pianeta rosso andiamo avanti di quali caratteristiche abbiamo bisogno per poter definire la geologia di un pianeta cioè cosa gli studiosi vanno a cercare quali elementi, quali fenomeni descrivono per poi poter ricostruire l'evoluzione nel tempo di un pianeta mi scuso perché non ho tradotto in italiano le diapositive comunque adesso le spieghiamo bene innanzitutto la litologia perché la litologia? perché sappiamo che la composizione sia la composizione che la tipologia di una roccia sono molto importanti e dobbiamo dire che rocce per esempio sulla terra abbiamo rocce sedimentari magmatiche, metamorfiche queste possono avere anche la stessa composizione e quindi è importante riuscire a distinguere sia la composizione che la tipologia di rocce perché a parità di composizione possono essere stati differenti i processi che hanno portato alla formazione di un certo tipo di roccia altre osservazioni che vengono fatte sulle superfici planetarie sono per esempio la stratigrafia la stratigrafia è una delle discipline importanti della geologia e che permette di definire dei timing delle datazioni dei processi geologici che sono avvenuti sulla superficie stessa in termini relativi cioè non tanto un numero assoluto ma per esempio andando ad osservare i rapporti geometrici che esistono tra varie unità geologiche è possibile comprendere quali rocce si siano formate prima e quali siano invece successive quindi questo anche concorre a definire le proprietà della storia evolutiva di un pianeta poi abbiamo la tettonica la tettonica ci parla di quelli che sono gli stili deformativi che caratterizzano una superficie planetaria e che in qualche modo riflettono sono lo specchio di ciò che sta avvenendo all'interno del pianeta stesso quindi per esempio ci raccontano se c'è un'attività all'interno del mantello quanto è vigorosa questa attività e quindi sostanzialmente se un pianeta è o meno geodinamicamente attivo o se lo è stato nel passato attraverso l'analisi delle immagini delle immagini satellite è poi possibile osservare le varie forme che caratterizzano una superficie planetaria e dalle forme si può ricostruire quelli che sono stati i processi che hanno plasmato il paesaggio di un pianeta quindi ancora fenomeni che evolvono nel tempo poi il poter riconoscere per esempio se ci sono edifici vulcanici se ci sono colate laviche questi sono ulteriori indizi che ci parlano del mantello e che ci permettono di comprendere se c'è stata o meno una differenziazione crostale qual è il grado di evoluzione in termini composizionali di una crosta e infine forse la parte anche più interessante è quella del poter dare delle età cioè del fornire delle datazioni e qui abbiamo da fare due considerazioni delle datazioni di tipo relative cioè come dicevo prima stabilire chi viene prima e chi viene dopo e questo viene fatto attraverso lo sviluppo di un'idea brillante che è stata sviluppata a partire dagli anni 70 del secolo scorso che è quella del crater counting cioè sostanzialmente si va a considerare quanti crateri e la densità di crateri che caratterizza una certa area perché l'idea di fondo è che tanto più una superficie è stata esposta al bombardamento meteorico tanto più alto sarà il numero di crateri che caratterizza quell'area e questo consente di fare appunto una datazione relativa viceversa per poter avere dei numeri assoluti cioè per associare proprio un numero un'età ad una certa porzione di territorio ad una certa roccia abbiamo bisogno di ricorrere a delle a delle metodologie più sofisticate si parla di datazioni radiometriche e come facciamo a fare queste datazioni per poter fare delle datazioni abbiamo bisogno di campioni cioè di rocce che vengano dalla superficie planetaria che noi vogliamo studiare però in realtà noi non abbiamo ancora purtroppo campioni diretti della superficie marziana o meglio quelli che abbiamo sono dei meteoriti e i meteoriti possono essere datati in particolare le SNEC SNC che sta per scergottiti nacliti cassingiti sono i tipi di meteoriti marziani di origine marziana che sono stati rinvenuti sulla sulla terra come facciamo a sapere che effettivamente siano rocce che vengono proprio dal suolo marziano perché in realtà hanno una tipica firma una una composizione in termini di abbondanze di elementi chimici e di rapporti isotopici che è molto simile a quella dell'atmosfera marziana e questi questi meteoriti hanno una composizione prevalentemente mafica cioè ricca di ferro e magnesio fino ad ultramafica cioè ancora più ricca di ferro e magnesio e nel grafico che vi sto mostrando ora vediamo che tra tutti i campioni di origine marziana che abbiamo a disposizione questi si distribuiscono lungo un periodo che spanna in un range temporale che va dal presente fino a circa 4,5 miliardi di anni fa 4,6 in particolare proprio questo meteorite ALH 84001 questo meteorite è molto importante il suo nome è Allen Hill dal luogo in cui fu ritrovato e ci racconta proprio il periodo un periodo molto antico della storia di Marte un periodo in cui questo pianeta verosimilmente ospitava acqua e verosimilmente poteva anche avere delle forme di vita come vi dicevo la forma questa è la foto del meteorite di cui stiamo parlando che fu rinvenuto nel 1984 in Antartide appunto Allen Hill in un luogo che per chi è interessato si trova non molto distante anche dalla base scientifica italiana lungo la costa del mare di Ross chiamata Mario Zucchelli Station quando fu ritrovato questo meteorite al momento della scoperta aveva un peso di circa due chili e questo meteorite ha fatto parlare di sé circa una decina di anni dopo perché sostanzialmente gli studiosi alla ricerca di tracce di vita in realtà scoprirono qualcosa di molto interessante e in particolare scoprirono delle tracce possiamo meglio vedere in questa immagine al microscopio elettronico quindi questa fotografia molto ingrandita in cui riconosciamo queste forme granulari e allungate che furono messe in relazione a forme di batteri fossili e sembravano quindi come essere dei nanobatteri tanto che addirittura la notizia passò a Emilia e il presidente americano Bill Clinton all'epoca parlò appunto di una scoperta veramente sensazionale epocale e finalmente erano state trovate tracce di vita al di fuori del nostro pianeta tuttavia poi la notizia si ridimensionò perché in alcuni altri studiosi furono in grado di replicare in laboratorio delle forme analoghe a quelle osservate in questa fotografia e quindi semplicemente si dimostrò che fossero delle strutture minerali di origine abiotica tuttavia devo dire che negli ultimi anni il dibattito si è riaperto quindi forse l'ultima parola ancora non è stata detta in questo senso tornando alle datazioni allora abbiamo già detto che vedendo queste due immagini una superficie che è caratterizzata da una più alta densità di crateri vuol dire che è stata esposta per più tempo agli impatti meteorici e che quindi è relativamente più antica viceversa una superficie come quella rappresentata nell'immagine a destra sempre del suolo marziano che è caratterizzata da un minor numero quindi da una minore densità di crateri relativamente più più recente ma come facciamo a dare una datazione assoluta gli studiosi utilizzano attualmente un metodo che come dicevo prima è stato messo a punto ormai qualche decennio fa vale a dire noi conosciamo l'età dei campioni lunari perché sono quelli che sono stati riportati dagli astronauti dalle campagne delle missioni Apollo sappiamo dove questi campioni sono stati raccolti e quindi è stata fatta un'analisi della densità dei crateri nelle aree in cui da cui derivano questi campioni lunari è stato quindi possibile trovare una legge diciamo di correlazione tra l'età trovata dei campioni lunari e la densità dei crateri nelle aree in cui erano stati raccolti quindi andando ipotizzando che la stessa curva la stessa legge in qualche modo possa essere applicata ai pianeti terrestri come appunto Marte attraverso il confronto si può riuscire a fare delle datazioni delle superfici planetarie ora la cosa interessante è che applicando questo metodo si è visto che la storia geologica di Marte può essere suddivisa in tre periodi il periodo più antico quello rappresentato con queste due chiazze rosse chiamato anche Nuachiano l'area verde invece è il periodo intermedio ed è chiamato Esferiano i nomi derivano dalle aree marziane da cui questi che caratterizzano questa superficie mentre il periodo di storia più recente è l'Amazoniano una cosa veramente interessante è che la distribuzione dei colori quindi dell'età dei tempi geologici della superficie marziana come la vediamo in questa rappresentazione sembra mostrare una buona correlazione con quella che è la distribuzione delle quote quindi le aree più alte più elevate rispetto a quelle più depresse che caratterizzano il pianeta in particolare poi lo vedremo anche tra breve meglio l'emisfero meridionale di Marte è caratterizzato da zone più elevate che corrispondono alle aree verdi quindi relativamente più antiche del pianeta stesso l'emisfero settentrionale invece è caratterizzato dalle cosiddette lowlands e l'area il confine tra queste due zone è una fascia che sembra essere molto importante ed è chiamata dicotomia torniamo alla scala dei tempi geologici qui vediamo la distribuzione di questi nomi neochiano esperiano mozzoniano che abbiamo appena citato e quelli che sono i numeri assoluti associati a questi periodi il pre neochiano cioè la parte più antica più vecchia della storia di Marte ci parla di una fase che è quella in cui Marte si forma dalla nebula originaria in cui c'era ancora una dinamo attivo e quindi un campo magnetico presente e va da circa 4,6 a 4,1 miliardi di anni poi abbiamo il nuochiano che è quello che corrisponde all'età delle islands dell'emisfero meridionale è un periodo in cui c'è attività vulcanica si forma la regione di Tarsis Alba Patera ci sono tracce indizi di grandi presenza di fiumi di reti fluviali ed è dal periodo nella transizione tra il nuochiano e l'esperiano Marte è completamente diverso da ora aveva quindi acqua canali fluviali fiumi che sfociavano in quella regione delle lowlands che abbiamo visto prima dell'emisfero settentrionale che era forse caratterizzato dalla presenza di appunto un grande oceano nell'esperiano abbiamo la formazione della valle Marineris che tra poco andremo a vedere meglio attraverso delle immagini l'attività vulcanica continua e questa attività vulcanica è necessaria per alimentare la presenza di un'atmosfera un'atmosfera che è necessaria per preservare l'acqua sulla superficie marziana è un periodo in cui abbiamo delle condizioni di pressione e temperatura e un clima totalmente diverso rispetto a quello attuale infatti come abbiamo anticipato all'inizio attualmente l'acqua non è facilmente rinvenibile allo stato liquido sulla superficie marziana quindi l'esperiano è un periodo nel quale anche nel passaggio con l'amazzoniano abbiamo attività legate alla presenza dell'acqua con formazioni con formazione di morfologie di tipo fluviali lacustri la formazione anche dell'Elysium Rice ed è soltanto nei tempi più recenti circa 400 milioni di anni fa 500 milioni di anni fa che abbiamo anche la formazione di calotte polari di permafrost e quindi indizi del fatto che è cambiato il clima marziano qui sulla parte destra di questo grafico vediamo quali sono i minerali o comunque le rocce tipiche dei periodi che abbiamo prima citato nel periodo più antico abbiamo sostanzialmente minerali argillosi minerali argillosi per formarsi hanno bisogno di acqua e quindi ci parlano ancora nuovamente di un pianeta in cui c'era acqua c'erano oceani poi il clima cambia si passa a condizioni più aride e quindi queste sono compatibili con la formazione di solfati come gessi per esempio e quindi comincia a diminuire la presenza di acqua fino ad arrivare alla formazione di minerali anidri come dice la stessa parola anidro indica l'assenza di acqua e anche la presenza di ossidi di ferro quindi anche il record della tipologia di rocce che affionano in qualche modo ci parla di questi cambiamenti climatici e la progressiva scomparsa dell'acqua questa è la carta geologica della superficie marziana è la carta di riferimento la carta più più recente in cui vengono rappresentati con i diversi colori diverse informazioni geologiche per realizzare questa carta gli studiosi hanno utilizzato diverse tipologie di dati immagini acquisiti nel campo dello spettro elettromagnetico del visibile immagini nel campo dell'infrarosso termico che hanno permesso di distinguere per esempio materiale poco consolidato non consolidato dalle rocce invece più litificate e poi anche sulla base dell'analisi di quelle immagini che vedevamo prima colori che danno indicazioni su quali sono le aree più rilevate e quelle più depresse quel tipo di dato è stato realizzato attraverso dati laser che hanno appunto restituito immagini tridimensionali della superficie marziana i colori con il colore verde vengono rappresentate le lowlands le aree dell'emisfero settentrionale più depresse con il giallo materiale più recente relativamente più giovane il rosso e il viola il purple indica le unità vulcaniche mentre con il blu e l'azzurro sono indicate le unità che si trovano nelle aree polari e il marrone nocciola si riferisce soprattutto alle aree più intensamente craterizzate più elevate come quota topografica e che caratterizzano l'emisfero meridionale questa è la parte polari polo nord e polo sud marziano e già qui cominciamo a vedere che attualmente sono presenti due calotte polari la più grande è quella dell'emisfero settentrionale questa è l'immagine realizzata con dati laser che appunto ci dettaglia meglio le caratteristiche fisiografiche della topografia del paesaggio marziano possiamo riconoscere oltre a quella dicotomia di cui parlavo cioè quel confine tra le aree emerse tra le aree più elevate e quelle più depresse tra le islands e le lowlands riconosciamo per esempio anche la provincia vulcanica della regione Tarsis dove si sviluppa il monte Olimpo il sistema di canyon della valle marineris e se vogliamo quest'altro distretto vulcanico della provincia dell'Elysium plenizia queste caratteristiche sono ben visibili anche in altri tipi di rappresentazione della superficie marziana allora la dicotomia è ben espressa abbiamo detto nella topografia e se la volessimo rappresentare la potremmo descrivere attraverso questo tipo di di curva ma questa dicotomia questo confine rappresenta non soltanto una separazione tra le proprietà relativamente al paesaggio ma anche nelle proprietà geofisiche dell'interno del pianeta queste altre immagini sono il frutto di elaborazioni di modelli di calcoli ma sostanzialmente ci parlano per esempio le immagini che vi sto indicando qui della distribuzione in questo caso dello spessore della crosta marziana o ancora la distribuzione del segnale geomagnetico o ancora delle anomalie di gravità quindi sostanzialmente il messaggio è che questa dicotomia ha un'importanza alla scala dell'intero pianeta e si sta parlando di qualcosa di qualche fenomeno che deve essere avvenuto e che ha interessato l'interno del pianeta stesso questi histogrammi invece ci dicono che la distribuzione delle quote e analogamente la distribuzione dello spessore della crosta marziana è una distribuzione bimodale similmente a quella che abbiamo sulla Terra sul pianeta Terra abbiamo le terre emerse relativamente più alte e caratterizzate da una composizione differente rispetto ai bacini oceanici che sono fatti di rocce prevalentemente basaltiche più basiche rispetto ai graniti che compongono i continenti e si trovano a quote relativamente più basse quindi possibilmente anche questa stessa distribuzione che abbiamo anche su Marte potrebbe parlare di qualche differenzazione a livello crostale del pianeta stesso ora circa l'origine della dicotomia a partire dagli anni 60 70 in poi sono state proposte numerose teorie teorie che coinvolgono sia processi cause prevalentemente endogene cioè legate a fenomeni che avvengono all'interno del pianeta movimenti del mantello che hanno portato appunto a questa differenziazione a modelli in cui si prevede che ci sia stato uno grande impatto meteorico o più impatti meteorici che hanno poi creato questa questa distribuzione delle terre oppure un trigger una causa mista cioè per esempio un impatto meteorico che abbia potuto scatenare dei fenomeni all'interno del pianeta e che abbiano messo in attività dei processi simili a quelli che avvengono sulla superficie terrestre come fenomeni di subduzione il dibattito il messaggio è che il dibattito è ancora aperto e noi a Genova stiamo cercando di comprendere meglio questa cosa e stiamo avviando una serie di ricerche anche in collaborazione con altri colleghi quindi si parla di ricerche multidisciplinari che non coinvolgono solo geologi ma che implicano anche la collaborazione di geofisici di astrofisici per cercare di meglio comprendere queste cose altre caratteristiche della superficie marziana la dicotomia l'abbiamo già citata possiamo citare il monte olimpo il monte olimpo è il più grande rilievo presente nel sistema solare ed è il più grande vulcano del pianeta Marte e del sistema solare ha un'altezza di oltre 22 km rispetto al livello topografico di riferimento del pianeta ha un diametro alla sua base di circa 600 km è un vulcano a scudo per i non addetti ai lavori per il vulcano a scudo intendiamo un vulcano che si è comportato e che ha avuto una storia simile ai vulcani che caratterizzano le Hawaii come possiamo vedere in questa rappresentazione anche qui in basso con la differenza che però è molto più grande fu osservato per la prima volta da Schiapparelli il quale notò un bagliore una caratteristica più chiara della sua cima ovviamente non si trattava di una cima innevata ma molto probabilmente era anidrite carbonica allo stato solido il cratere centrale raggiunge una quota di circa 27 km rispetto alla base e se lo paragoniamo alle altre alle montagne terrestri possiamo dire che è alto circa tre volte il monte Everest considerando l'Everest rispetto alla sua altezza sul livello del mare e altrettanto tre volte rispetto al Mauna Loa che è il più grande vulcano delle isole delle isole Hawaii l'attività del monte Olympus si è distribuita a lungo il tempo geologico di Marte ed è stato attivo si ritiene fino in tempi geologicamente abbastanza recenti quindi circa 200 milioni di anni fa rispetto a quella che è l'età dell'intero pianeta che è circa 4,5 miliardi di anni l'altra importante caratteristica del pianeta è il sistema di depressioni e di canyon che caratterizza la valle Marineris appunto un sistema di canyon la cui dimensione come vediamo in questa rappresentazione l'elongazione è pari quasi all'intera estensione degli Stati Uniti l'origine di questa depressione è stata messa in relazione a fenomeni di estensione crostale quindi con l'attività di faglie normali ma non sono escluse anche ipotesi che vedono l'attività di movimenti orizzontali quindi faglie trascorrenti così come avviene nel Grand Canyon le pareti i versanti di questi di questi canyon appunto preservano un record di rocce di stratigrafico che raccontano la storia e i fenomeni geologici che sono avvenuti su Marte quindi fenomeni legati ad attività fluviale fenomeni legati ad attività eolica instabilità di versante come la presenza di piccole frane altre caratteristiche che plasmano la superficie del pianeta sono riconducibili ad elementi tettonici come per esempio queste strutture queste depressioni associate alla formazione di faglie estensionali ma anche a strutture di tipo compressivo come i Brinkle Ridge l'attività di tettonica trascorrente è stata un po' sottovalutata finora e anche su questo noi stiamo lavorando tuttavia ci sono diversi indizi che appunto mostrano dei movimenti di carattere orizzontale qui vi presento un'immagine in cui si vede una zona molto interessante che è l'area in cui è atterrato in sight una delle missioni su Marte in cui ci sono una serie di campi di sciami di fratture riconducibili probabilmente all'attività di movimenti orizzontali poi abbiamo detto che su Marte ci sono delle calotte calotte di ghiaccio ghiaccio di acqua di CO2 e come possiamo vedere sono caratterizzate dalla presenza di incisioni che hanno questa forma di spirale attraverso i dati radar è stato possibile ricostruire anche l'interno di queste calotte quindi la loro stratigrafia il layering interno appunto del ghiaccio e non ultimo recente orgoglio anche della comunità scientifica italiana il fatto che alcuni colleghi hanno contribuito alla cosiddetta scoperta di laghi su Marte di laghi di depressioni e di laghi che si trovano al di sotto di queste calotte polari in questa immagine vediamo il sito di atterraggio avrete sentito tutti quanti dell'ultima missione arrivata su Marte lo scorso mese del perseverance qui vediamo un ingrandimento dell'immagine originale ci troviamo all'interno del cratere jaziro e questa forma che possiamo riconoscere è una tipica forma associata all'ascorrimento di acque all'ascorrimento di fiumi che appunto scorrevano in una direzione centripeta all'interno di questo cratere che possiamo vedere e che si ritiene che un tempo ospitasse un grande lago quindi il motivo per cui è stato scelto questo sito è proprio per studiare questi fenomeni questo diagramma ci dice che attualmente le condizioni di pressione e temperatura sulla superficie marziana sono poco compatibili con la presenza di acqua o comunque l'acqua se c'è è un caso veramente sporadico il campo di stabilità dell'acqua in questo diagramma è rappresentato dall'area verde e il campo delle pressioni e temperature sulla superficie marziana è questo rappresentato da questo rettangolino quindi vedete che soltanto in una piccola porzione abbiamo l'acqua allo stato liquido allora quindi quali sono i problemi principalmente ancora attivi aperti per quanto riguarda Marte sostanzialmente qual è stato il contributo dei processi endogeni e dell'attività tettonica se c'è stata e quanto è stata attiva e se è ancora attiva per poter rispondere a questi quesiti sicuramente i nuovi dati che vengono per esempio dalla missione InSight che è operativa dal 2018 quindi ormai più di due anni e che è equipaggiata con un sismografo e quindi misura la presenza l'occorrenza di terremoti e ad oggi sono stati misurati e registrati più di un migliaio di terremoti che hanno delle caratteristiche molto peculiari innanzitutto è stato escluso che si tratti di terremoti di origine legati ad impatti meteorici perché appunto come vi dicevo prima si riteneva in passato fino ad ora si ritiene che sia un pianeta che non presenti un'attività tettonica così attiva eppure questi movimenti ci sono stati questo è il tipico tracciato di un sismogramma e gli studiosi hanno trovato che c'è una firma anche in questo caso cioè che hanno una similitudine con certi tipi di terremoti che avvengono sulla superficie terrestre e che si trovano in un contesto intraplacca cioè all'interno delle placche e questi terremoti sono stati ubicati le aree epicentrali di questi terremoti sono stati ubicati proprio in questa zona la Cerberus Fosse che è quella che avevo mostrato poco fa un'immagine in cui si vedevano questi sciami di fratture allungate quindi in effetti non solo c'è l'evidenza di movimenti sismici ma ci sono anche in superficie degli indizi di deformazione che potrebbero essere verosimilmente messi in relazione con questi dati poi abbiamo i dati provenienti che verranno acquisiti dal Perseverance che appunto vi citavo prima è stato e è atterrato circa un mese fa e tra pochi giorni forse nel giro di una o due settimane comincerà anche la sua attività il drone l'elicotterino ingeniti qui abbiamo una panoramica di tutte quelle che sono le missioni dirette a Marte in questi in questi 40-60 anni di esplorazione circa più di 40 missioni sono state lanciate e circa 25 hanno raggiunto la superficie quindi un buon rate di successo in alto vediamo in alto a destra la prima immagine della superficie marziana proveniente dalla Mariner 4 la prima sonda che ha orbitato attorno al pianeta rosso nel 1965 e poi è stato il turno dei russi con l'Under Mars 3 che è stato il primo manufatto a raggiungere appunto la superficie marziana e poi è stata la volta dei Lander il Viking 1 e 2 che si sono succeduti a partire dagli anni 70-75 qui ancora vediamo l'ubicazione delle varie missioni che hanno raggiunto il suolo marziano e il sito di Perseverance che è questo qui quindi tornando al nostro problema come possiamo fare a rispondere al quesito se Marte è ancora geologicamente geodinamicamente attivo suggerirei almeno tre possibili approcci il primo che è quello suggerito molto spesso anche dai petrolieri nelle compagnie petrolifere in un momento in cui ci sono pochi finanziamenti sarebbe opportuno riuscire a guardare a studiare i vecchi dati con nuove idee e quindi quindi guardare a cose vecchie ma con nuove idee sicuramente poi nuovi dati verranno dalle nuove campagne possibilmente anche con la auspicabilmente con la capacità di riportare a terra dei campioni marziani così come è stato fatto per i campioni lunari infine il terzo spunto di riflessione è quello di provare ad utilizzare le conoscenze sviluppate in ambito geologico sulla superficie terrestre per poter riuscire a modellizzare e a comprendere l'evoluzione nel tempo sia delle superfici planetarie in particolare nella fattispecie di Marte ma anche per ricostruire le traiettorie dei campi di stress quindi la sfida è da una parte ricostruire le geometrie al di sotto della superficie estrapolando i dati di superficie i geologi sono in grado di rappresentare le caratteristiche di un territorio in rappresentazioni planari attraverso appunto le carte geologiche ma poi possono integrare le informazioni in modo tale da ricavare le geometrie e l'assetto dei volumi di roccia anche in profondità ciò che in qualche modo lega una carta geologica rispetto ad uno spartito musicale è il fatto che i simboli utilizzati sono accomunati e acquisiscono valore sotto la quarta coordinata che è quella temporale e quindi la sfida è quella di riuscire non solo a rappresentare attraverso delle istantanee come fossero delle fotografie l'assetto attuale ma anche quello di riuscire a comprendere la loro evoluzione nel tempo vado vado velocemente per esempio per far capire che una morfologia come quella che caratterizza il margine di un cratere possa essere riprodotta attraverso delle discontinuità delle faglie che appunto sono state responsabili della formazione delle forme che oggi vediamo questa animazione vuole far vedere che diversi processi geologici possono essere responsabili delle stesse forme che si osservano in superficie in questo caso abbiamo due strutture applicative delle pieghe ma quando leviamo la coperta che nascondeva la sottosuperficie ci rendiamo conto che nel primo caso in alto c'è stato un processo di tettonica che sulla terra chiamiamo tettonica salina nell'altro caso c'è stata una discontinuità una faglia che a livello crostale ha portato i volumi di roccia sopra questa discontinuità ad accavallarsi sopra quelli che si trovano al di sotto ecco attraverso delle animazioni come queste sarebbe possibile per esempio ricostruire le forme che riconosciamo anche sulla superficie marziana andando alle calotte polari abbiamo detto poco fa ci sono queste insenature queste grosse incisioni nella calotta la cui origine ancora anche essa è abbastanza dibattuta i dati radar ci permettono di vedere la stratificazione del ghiaccio in particolare si vede che questa stratificazione non è lineare ma è piuttosto articolata cambiano gli spessori e molti autori ritengono che queste stratificazioni e queste discontinuità possano essere il risultato prevalentemente dell'azione dei venti che in qualche modo erodono in alcuni settori e ridepositano il ghiaccio in altri settori applicando quel concetto di evoluzione nel tempo e avendo un occhio differente il nostro gruppo di ricerca ha proposto un modello alternativo di formazione di queste strutture all'interno del ghiaccio attraverso l'azione di discontinuità di faglie in particolare che sono appunto responsabili della formazione e dell'articolazione della struttura interna del ghiaccio ora se guardiamo la calotta polare dell'emisfero meridionale quindi siamo a sud dobbiamo sapere che all'interno di questa calotta sono sequestrate grosse quantità di CO2 di anidrite carbonica se questo ghiaccio fosse stato veramente interessato da faglie quindi da discontinuità e queste andassero ad intercettare queste sacche di CO2 ci rendiamo conto che l'attività chiamiamola tettonica l'attività di queste discontinuità andrebbe a permettere a grosse quantità di CO2 di essere immesse nuovamente in atmosfera e quindi avere un impatto anche sulla composizione dell'atmosfera stessa marziana abbiamo parlato di laghi subglaciali in Antartide ma sappiamo che anche sulla Terra esistono laghi subglaciali scusate di laghi subglaciali marziani ma anche sulla Terra in particolar modo in Antartide ne esistono e sotto uno spessore di circa 4 km di ghiaccio al centro del continente attartico si trova il lago Vostok analogamente l'attività di faglie che tagliano l'intera crosta possono spiegare la formazione di queste depressioni che ospitano il lago quindi il suggerimento per risolvere le problematiche alcune delle problematiche è quello di applicare metodologie simili anche alla superficie marziana l'altro grosso sfida sarebbe quella di riuscire a capire quali sono le traiettorie degli stress cioè di quelle forze tettoniche che in qualche modo governano e producono la formazione di questa deformazione i geologi sono abituati a lavorare anche con immagini di intere superfici planetarie che hanno messo in luce l'esistenza di allineamenti che caratterizzano le superfici planetarie qui vediamo un esempio da appunto l'area vulcanica vicino Tassis questo è Alba Patera e si vede che la superficie è intagliata da uno sciame di fratture che si clasterizzano che si raggruppano secondo delle direzioni preferenziali questi allineamenti scaratterizzano anche altre superfici planetarie qui abbiamo degli esempi dalle superfici ghiacciate dei satelliti gioviani che di Mede ed Europa ma anche dal piccolo satellite in celado di Saturno queste sono le Tiger Sprite e questi allineamenti questi sciami di fratture si trovano anche sulla superficie terrestre come detto prima si raggruppano secondo delle famiglie preferenziali e gli studiosi hanno proposto dei modelli secondo i quali esiste una relazione tra questi allineamenti e i campi di stress quindi qui andiamo avanti andando a concludere sicuramente sicuramente il ruolo di faglie e fratture possono aver avuto faglie e fratture possono aver avuto un ruolo importante nella migrazione dei fluidi nel pianeta e quindi nel trovare le vie preferenziali che mettono in comunicazione il materiale e i fluidi che si trovano nella sottosuperficie o che sono sequestrati nel ghiaccio e per poter entrare poi in atmosfera e questo capite che ha delle implicazioni importanti non solo di carattere climatico ma anche perché molto spesso questi fluidi contengono degli elementi e hanno delle composizioni che possono andare a permettere di creare le condizioni speciali affinché si possa sviluppare anche la vita quindi andare a cercare queste faglie queste strutture tettoniche ci consente anche di andare a individuare le zone in cui possibilmente andare a concentrare le ricerche nei prossimi anni i campi di stress crostali anche possono essere identificati attraverso metodologie ben consolidate sulla terra e che ci permettono anche di comprendere qual è l'assetto al di sotto della superficie stessa forse ho rubato troppo tempo ma con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione grazie a te Paola una montagna di informazioni ci sarà da rosicchiarci sopra per un po' grazie mille ci sono domande si come hanno fatto a recuperare la fotografia del Viking nel 75 era un oggetto digitale quindi trasmissibile e ricevibile a terra come dati un po' tecnica però forse non sono un'esperta forse Sandro ne sa di più su questo argomento mi sa sì immagino che siano state comunque registrate poi attraverso onde radio in qualche modo trasmesse a terra assolutamente no ce n'è una invece più forse del tuo settore dice la numerosità rilevante per la datazione è quella dei crateri con un raggio superiore a una certa misura sì sicuramente c'è stata una mezza risposta che dice credo che più alla dimensione per una datazione sia rilevante la loro morfologia quindi il livello di erosione del cratere stesso sono due cose sì in realtà entrambi i fattori vanno tenuti in considerazione però un altro elemento che bisogna considerare sono le caratteristiche delle immagini che abbiamo a disposizione cioè le immagini dovrebbero poter avere una risoluzione tale da consentire poi di individuare anche i crateri più piccoli quindi oggettivamente c'è un limite legato anche al dato che utilizziamo e quindi il metodo della datazione attraverso il conteggio dei crateri in effetti resta al fianco a molti dubbi e infatti il dibattito è acceso anche su questo sì grazie e poi dice ancora ingegnere Giordano la fluidità della lava marziana si spiega unicamente con la composizione chimica? beh no non solo bisogna anche tenere in considerazione il fatto per esempio la gravità che la gravità su Marte è differente e quindi la possibilità che le colate laviche possano raggiungere delle estensioni molto molto elevate assolutamente poi c'è anche la questione dell'acqua perché sulla Terra la presenza di acqua nelle lave è fondamentale per influenzarne poi la chimica e la viscosità certo certo assolutamente il dibattito è aperto anche in merito a quale sia a che fine abbia fatto l'acqua che una volta si trovava sulla superficie marziana è evaporata ed è andata via è stata intrappolata in qualche modo all'interno del pianeta fa parte di qualche minerale un po' più idrato all'interno nella parte più nelle livelli più profondi della crosta marziana sono tutta una serie di quesiti ancora aperti sicuramente abbiamo bisogno di nuovi dati per poter vincolare meglio i modelli che attualmente abbiamo grazie ecco è arrivata in questo momento una domanda di base perché siamo tanto interessati a Marte e poco a Venere che pure ha alcune caratteristiche più simili alla Terra l'interesse in realtà oltre che a Marte è diretto molto anche sulla Luna sappiamo che l'intenzione è di riportare l'uomo sulla Luna entro il 2024 così come si parla del desiderio ci sono anche dei progetti per poter arrivare con delle missioni con astronauti quindi con uomini anche con uomini sulla superficie lunare mentre su Venere arrivare mandare delle persone sembra molto molto problematico al momento eh sì già con le sue niente decisamente poco ospitale condizioni totalmente differenti ambientali sì e ancora una domanda due domande la presenza di Metano indicherebbe movimenti geologici? non necessariamente però bisogna parlare di cause ed effetto quello che mi sento di dire è che sicuramente a parte l'origine del Metano abbiamo come dire guardando analizzando le altre superfici planetarie abbiamo indizi che questo tipo di idrogarburo si forma non soltanto per origini di tipo legato a forme di vita ma anche ha anche un'origine abiotica quindi in questo senso ci racconta delle caratteristiche geologiche di un pianeta mentre quello che volevo sottolineare prima era il fatto che la presenza di discontinuità di faglie di fratture possono in qualche modo rappresentare quelle vie attraverso le quali i fluidi quindi acqua piuttosto che metano possano raggiungere anche la superficie c'è una domanda di Luigi che dice se sei riusciti a capire quanto fossero estesi i mari o i laghi di Marte se erano tipo i nostri oceani o erano meno estesi se abbiamo ipotesi ma l'ipotesi come dicevamo esiste un'ipotesi che prevede l'esistenza di un grande oceano che ricoprisse più o meno l'emisfero l'intero emisfero settentrionale marziano quindi in quella superdepressione in cui c'era un unico continente come la nostra Pangea centinaia di milioni di anni fa e un unico e un grande oceano che occupava le aree più depresse e c'erano comunque sicuramente anche dei laghi nelle aree delle Lowlands però ripeto sono tutte ricostruzioni basate su analisi di dati della superficie dei modelli ok ancora c'è un motivo della diversa dimensione delle due calotte polari questo sinceramente non lo so non saprei dire però c'è anche da dire che la calotta ci sono estese aree caratterizzate dalla presenza di permafrost cioè di ghiaccio intrappolato nel terreno e ci sono state evidenze misure articoli colleghi insomma che hanno riportato la presenza di permafrost quindi di ghiaccio anche alle latitudini più o meno equatoriali quindi non saprei non saprei quali sia la causa effettivamente delle diverse dimensioni anche il fatto che la calotta dell'emisfero meridionale fino a pochi anni fa neanche venisse considerata ok e poi una domanda dal Cile dice hai fatto vedere la curva di terremoti quale sarebbero le cause e in che unità si misurano la curva allora quello che ho mostrato era un sismogramma che è appunto il segnale associato al movimento del terreno per questo evento per questo evento quali sono le cause è una gran bella domanda ed è proprio su questo che stiamo investigando perché come dire il paradigma attuale il dogma anche oserei chiamarlo prevede che Marte sia un pianeta fermo stabile senza nessun tipo di attività però dall'altra parte abbiamo alcuni indizi per onor del vero e per correttezza dovrei dire che non molto tempo fa è capitato di confrontarmi con una collega la quale ha espresso dubbi anche in merito al dato stesso cioè dubitava sulla attendibilità di questi terremoti però devo dire che nella comunità scientifica c'è sempre un maggior numero di lavori pubblicati di articoli che invece raccontano che questi terremoti abbiano delle caratteristiche simili a quelli terrestri hanno una magnitudo momento molto bassa se abbiamo delle magnitudo comprese tra 3 e 4 quindi non si tratta di eventi sismici così forti così energetici tuttavia come dicevo hanno delle caratteristiche simili ad alcuni dei terremoti che avvengono sulla superficie terrestre sappiamo che sulla terra la deformazione principalmente si concentra ai margini delle placche cioè dove questo mosaico di placche che caratterizza il nostro pianeta si muovono l'una rispetto all'altra e collidono o in qualche modo interagiscono provocando appunto anche terremoti ma ci sono indizi e ci sono terremoti anche in ambienti lontani dai margini delle placche che vengono appunto definiti intraplacca devo dire che anche spiegare esattamente come sia possibile propagare gli stress dai margini fino all'interno a migliaia di chilometri di distanza è oggetto di dibattito sulla terra quindi figuriamoci su Marte che è considerato un pianeta formato da un'unica placca e l'osservazione fatta è che appunto questi terremoti sono simili a quelli intraplacca sulla terra cosa significhi ci stiamo lavorando stiamo cercando di capirlo c'è una domanda un pochino più così sulla sull'ipotesi dice supponendo che si trovasse una prova dell'esistenza di vita su Marte quali sarebbero i passi successivi cioè cosa faremmo dopo non so cosa dopo però so che attualmente oltre che sulla superficie di Marte c'è tutta una una branca degli studi scientifici che si occupa della ricerca di tracce di vita anche su altre superfici planetarie e addirittura su altri pianeti in altri sistemi planetari quindi forse la ricerca di forme di vita risponde a delle esigenze dei quesiti che l'uomo si è posto sin dalla notte dei tempi non saprei se questo ha poi anche delle ripercussioni delle ricadute in termini come interessi di ordine pratico penso alle risorse energetiche per esempio però certamente è un argomento molto affascinante certo grazie allora io non vedo non vedo altre domande ah ok sì c'è una Isaias dice è probabile che le calotte cambino le dimensioni quando da una parte è inverno e dall'altra è estate che sia proprio un raffreddarsi riscaldarsi che ci siano dei cicli stagionali per cui le loro dimensioni aumentano e diminuiscono sì non saprei spiegare la differenza di estensione certamente la calotta polare dell'emisfero meridionale è molto più piccola quella dell'emisfero settentrionale indipendentemente dalle stagioni sì 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 quella dell'emisfero settentrionale raggiunge degli spessori anche dell'ordine di un paio di chilometri di ghiaccio quindi ordini di grandezza più simili a quelli della calotta polare antartica ma comunque più piccola rispetto alla calotta antartica certo grazie ah ancora una domanda quali contributi ha dato l'ammissione in site in campo geologico sin dal 2018 e poi per severance allora non c'è stato tempo direi di parlare di tutto in site certamente mi verrebbe da dire che il più grosso il più grosso contributo deriva proprio dalla messa in luce di questa attività sismica che ci consentirà poi anche di definire un po' meglio quelle che sono le caratteristiche interne del pianeta stesso quindi studiando le onde sismiche in qualche modo si possono comprendere meglio le caratteristiche del mantello e fino anche del nucleo di Marte e per quanto riguarda Perseverance ciò che mi viene in mente è il fatto che per esempio la ricerca di alcuni tipi rocciosi particolari come per esempio le rocce carbonatiche che non sono così distribuite così note essere così distribuite sulla superficie marziana però rocce carbonatiche sulla superficie terrestre sappiamo essere in relazione anche ad attività di tipo biologica quindi l'interesse sarà quello di verificare se questi nuovi strumenti permetteranno di identificare rocce carbonatiche e possibilmente tracce di vita associate grazie grazie allora intanto tanti complimenti in chat grazie per essere stata con noi non vedo altre domande io a questo punto direi che lascio la parola a Sandra Alessandra e saluto tutti quanti e grazie Paola grazie a voi complimenti anche da parte mia molto approfondita e molto bella una presentazione veramente ricca infatti anche abbiamo avuto tante domande e così hanno testimoniato un grande interesse grazie grazie Paola visto che non è dovuto tagliare qualcosa per il limite temporale che ti avevo imposto io diciamo così dei 45 50 minuti è l'occasione semmai per tornare semmai questo inverno quando avrai sicuramente delle informazioni in più ma non hanno mai pensato di creare un terremoto artificiale cioè di far spiantare qualche satellite e farlo andare a spiantare in prossimità della sonda sismometrica questo sinceramente non lo so però certamente quindi generare una fonte artificiale che generi appunto il movimento questo non lo so però so per certo che in effetti si pensava gli studiosi pensavano di poter riconoscere nei tracciati nei sismogrammi delle indicazioni riconducibili per esempio ad impatti meteorici perché da quello che mi raccontano i geofisici io non sono esperta effettivamente in questo settore se la causa perturbante è stata appunto un impatto meteorico il tracciato sismico il segnale avrà certe caratteristiche mentre se associato a fenomeni di carattere tettonico quindi alla presenza di una discontinuità di una faglia che si è che si è mossa in profondità il segnale sismico sarà differente e chi lo sa comunque sicuramente produrre del rumore produrre dare una fonte energetica differente potrebbe comunque aiutare a comprendere quali sono le caratteristiche dei primi chilometri dello spessore crostale un po' come viene fatto sulla Terra nelle prospezioni geofisiche per vari tipi di applicazioni Sì il messaggio che mi piaceva poter condividere è che poi per poter fare questo tipo di studi è necessario che si esca dal proprio singolo orticello dal proprio studio ma è necessario confrontarsi con persone che abbiano esperienze competenze anche differenti quindi il bello di quello che sta avvenendo che stiamo costruendo nel dipartimento dal D-Stav dove lavoro è il fatto di riuscire a collaborare con come dicevo prima non solo con i geofisici ma anche con i colleghi di fisica perché proprio attraverso il coaudivarsi e mettere assieme le esperienze le competenze differenti che si può andare oltre i paradigmi che cominciano a scricchiolare che potrebbero essere aggiornati un pochino infatti questa multidisciplinarietà è bellissima però di delle varie materie punto geologia chimica astrofisica fisica cioè biologia biologia anche biologia se parliamo se pensiamo alla vita certo infatti infatti quindi è veramente vario e affascinante per questo anche perché come hai detto tu si uniscono tutte le varie competenze e si impara tanto anche coi colleghi di altre discipline ecco immagino un paolo per vedere se si riesce a portare qualche astrobiologo su questi canali vedremo cosa se si riesce a fare ci stiamo lavorando vi ricordo il prossimo appuntamento mi raccomando non mancate 9 aprile con Davide Cenadelli che ci parla del cielo primaverile ciao a tutti alla prossima arrivederci ciao a tutti